Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato a San Giuseppe Vesuviano una fabbrica clandestina utilizzata per il confezionamento di bevande. Individuati quasi 1400 litri tra champagne, olio ed alcol etilico, privi delle indicazioni obbligatorie in materia di tracciabilità alimentare e contraffatti. In particolare gli specialisti hanno scoperto un opificio perfettamente allestito per l'etichettatura di bottiglie contenenti falso champagne a marchio Moët Chandon nel seminterrato di un edificio residenziale. Sequestrate 774 bottiglie di champagne, 804 di olio sapio e di alcol etilico delle distillerie La Sorgente e Fiume, nonché 129.400 accessori per il confezionamento tra tappi, etichette, contenitori in cartone, capsule copri tappi in alluminio con loghi e falsi marchi Moët Chandon, olio sapio, olio San Colombano e Made in Italy. Sequestrate anche 1100 contrassegni di Stato per bevande alcoliche con il logo contraffatto della Repubblica Italiana e denunciati i titolari una 55enne e un 48enne originari di Sarno per contraffazione e ricettazione. Sei mesi sul mercato i prodotti avrebbero consentito un guadagno di oltre 120.000 euro.